Ok, siamo a Shinjuku stasera, vi mangio qualcosa qui su questo splendido quartiere, pieno di vita, poi vi faccio un giro, magari vi faccio un salto per Big Camera e vediamo un po' cosa hanno da proporvi. Questa è una giornata anche oggi molto intensa, poi vi farò un piccolo smutto, poi caricherò tutto sul sito, mi raccomando se vi va iscrivetevi, vi saluto e vi abbraccio da Giappone. Ciao ragazzi, siamo prestissimo, magari vi posto pure cosa mangio stasera. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.